Il Papa del Sorriso Il Papa del Sorriso Il Papa del Sorriso La brava cantante Rosetana ha al suo attivo l'interpretazione di numerosi brani, anche a tema religioso. Che hanno ricevuto tantissimi apprezzamenti di pubblico e di critica. È stato realizzato da Alba Terranova di Messina. Un bel video con il canto. E' stato realizzato da Alba Terranova di Messina. Col tuo linguaggio semplice e sua dente Suscitavi ondate di emozioni e fede nel cuore dei fratelli bisognosi di lasciarsi accarezzare con tenerezza da Dio. Annunciavi il Vangelo col sorriso di Dio, un sorriso luminoso colmo di bontà, misericordia ed amore fraterno. E' stato realizzato da Alba Terranova di Messina. E' stato realizzato da Alba Terranova di Messina.